Qui potremo combattere senza problemi! Che cos'è quel ghigno di sfida? Concorrenti pronti a cominciare! E l'incontro a piedi zio! Perfetto! 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 Hai lupo! BASTA! BASTA! AAAAAAAH! Sono qui! Addio! Lasciate che io prenda parte alla vostra energia vitale! Come spec- Sorpreso! Dove guardi? Sono qui! BASTA! È inutile! BASTA! 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 Fai per assistere a qualcosa di straordinato! BASTA! 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 No, è inutile, troppo forte.